Ciao a tutti, oggi parliamo di espressioni letterali. Quali le differenze tra un'espressione numerica e un'espressione letterale? Nelle espressioni numeriche esistono solo numeri che sono legate tra loro dalle quattro operazioni. Nelle espressioni letterali invece, oltre ai numeri e alle operazioni, compare almeno una lettera. La differenza però non si limita a questo. Esaminiamo una semplice espressione numerica. 3 per 2 più 6 per 4 diviso 2. Eseguo i calcoli e capisco che il risultato è 18. Un'espressione numerica ha dunque un risultato ben preciso. Se in una verifica avessi ottenuto un numero diverso da 18 avrei perso dei punti perché avrei sicuramente commesso qualche errore. Altro esempio, 3a più b. Questa è un'espressione letterale. La prima cosa da dire è questo, che tra 3 e a normalmente non è scritto nulla, ma si sottointende il per. La moltiplicazione alla scuola elementare veniva indicata con una x. A partire dalla prima media, la x è stata sostituita con un puntino. A questo punto dell'anno, in terza media, spesso la moltiplicazione non sarà assolutamente indicata. La mia domanda è, se un'espressione numerica ha un risultato ben preciso, quale sarà la soluzione di questa semplice espressione letterale? La risposta è po'. Vediamo il perché. Io non posso conoscere il valore di un'espressione letterale se non conosco il valore delle lettere che compaiono. Allora, se nella mia espressione, il libro di testo, l'insegnante stabilisce che a vale 1 e b vale 4, posso allora trovare la soluzione, sostituendo alla lettera a il valore 1, alla lettera b il valore 4. Scrivendo dunque 3 per 1 più 4 ottengo il valore 7. Ma non è l'unico valore possibile. Alla lettera a infatti avrei potuto dare il valore meno 2 e alla lettera b il più 3. Sostituendo i valori avrei trovato il risultato meno 3. Ma alla lettera a avrei potuto dare il valore meno 1 terzo e a b meno 5 terzi, ottenendo meno 8 terzi. In conclusione, un'espressione letterale ha infinite soluzioni che dipendono dal valore che noi attribuiamo alle singole lettere. Vorrei poi porvi una domanda. Avete mai incontrato nel vostro percorso scolastico delle espressioni letterali o è la prima volta che ne sentite parlare e la terza media? Ne avete già incontrato e come? Sono espressioni letterali, ad esempio, tutte le formule incontrate in geometria. b per h. Questa è la formula dell'area del rettangolo parallelogramma. 4 per l è una piccola espressione letterale per trovare il perimetro del quadrato del rombo. O ancora b grande più b piccolo per h diviso 2, la formula dell'area del trapezio. Quante le soluzioni infinite? Ogni problema poteva dare risultati diversi. Cambiando la dimensione della base e la lunghezza dell'altezza cambiava di conseguenza anche l'area. Ed ecco qui un primo esempio di esercizio di espressione letterale in cui voglio solo sottolineare l'importanza di ricordarsi la moltiplicazione e poi l'importanza di non aver fretta nel momento in cui cioè si sostituisce ad ogni lettera il proprio valore utilizzare bene le parentesi perché la moltiplicazione e il segno del numero litigano e devono essere separati dalla parentesi tonda. Per oggi è tutto e ci risentiamo a prestissimo. Ciao!